Mostre, eventi, ma anche musica e didattiche ed ovviamente antiquariato. La Fondazione Ivan Bruschi, sostenuta da UbiBank, ha presentato le iniziative in programma per i prossimi mesi. Un programma che riguarda non soltanto la valorizzazione delle opere conservate all'interno della Fondazione, ma anche riesce a mettere in circolo tutta una serie di iniziative che vanno da quelle artistiche a quelle musicali, a presentazioni di libri e quindi a esposizioni, ma soprattutto mette in relazione la Fondazione con istituzioni oltre la città, come la Fondazione Palazzo Strozzi, come il Festival La Città dei Lettori, come la Ferragamo Associati con interventi di carattere didattico. Insomma, un campo molto ampio di iniziative e programmi che metteranno la Fondazione nell'anno 2019 al centro dell'attenzione non soltanto di Arezzo, ma anche della Regione. La Fondazione Bruschia è una parte essenziale del tessuto di Arezzo e come tale, anche se è un po' al di fuori del mio percorso professionale, però mi metto con tutto il mio impegno e con tutta la mia curiosità per far sì che questa fondazione sia ancora di più un gioiello per Arezzo e vorrei quindi far sì che tutto quello che mette in programma la Fondazione si muova in questa ottica di migliore valorizzazione per ottenere sempre i migliori risultati per la Fondazione. La continuità di Casa Bruschi non era data assolutamente per scontata. Si sa che i sistemi museali sono profondamente in deficit tutti quanti in tutta Italia e quindi c'era da assumere delle decisioni anche per quanto riguarda Casa Bruschi. Stare qui oggi ad annunciare il programma 2018-2019 mi sembra un qualcosa di assolutamente eccezionale nel segno della continuità e nel segno di quel messaggio che UBI tiene in qualche modo ad annunciare, in qualche modo veramente a perseverare in questo territorio, cioè quello di fare le cose per bene e di dare continuità al sostegno dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale.